Cosimo Salatino, attaccante del Basso Girardi, riconfermato rispetto alla passata stagione che però è stato anche un campionato molto particolare per tutti, però sicuramente si riparte con tanto entusiasmo, sperando soprattutto che sia quest'anno una stagione normale. Si riparte, abbiamo voglia di ricominciare, ci stiamo iniziando ad allenare e niente. Per quanto riguarda la squadra, è un gruppo in evoluzione, ancora stanno girando dei ragazzi per poter definire la squadra che andrà ad affrontare il campionato, però come sempre sarà un gruppo molto giovane. Come ti sei trovato anche rispetto all'anno scorso? No, abbiamo lasciato un gruppo l'anno scorso spettacolare, quest'anno cercheremo di fare lo stesso, di creare un gruppo, anzi una famiglia. E niente, i ragazzi nuovi si stanno ambientando benissimo, quindi cercheremo di fare gruppo e basta. L'anno scorso si è arrivato a Bastogirardi, però diciamo che non hai potuto godere in pieno dell'ambiente del Bastogirardi, poiché avete dovuto giocare gran parte delle gare, per l'appunto, anche senza pubblico. Quindi la speranza, credo, quest'anno sia quella di poter vivere una stagione anche con il supporto dei tifosi. Eh sì, lo speriamo tutti, perché l'anno scorso è stato un anno difficile, anche per noi stessi, zona rossa, zona bianca, è un casino, quindi speriamo che vengono i tifosi allo stadio e ci supportano. Di solito l'Emo Lisane e il Bastogirardi viene sempre inserito nello stesso girone, quindi ancora devono essere pubblicati, però proiettiamoci eventualmente ad un eventuale girone F, così come è stato negli anni passati. È un campionato che è comunque sempre molto competitivo, che anzi negli anni è anche salito sotto il punto di vista tecnico. Sì, ci sono giocatori fortissimi, squadre che stanno facendo gli acquisti buoni, si stanno rinforzando tutte, quindi è un campionato molto, molto ostico. A livello individuale cosa ti aspetti da questa stagione, se hai anche qualche rimpianto eventualmente rispetto al passato? No, mi aspetti a migliorare sotto l'ambito, sotto a porta e di fare un campionato con la squadra ottimale.